la Chiesa, perché proclami con franchezza costolica la vittoria di Cristo sulla morte come risposta della fede all'ansia del danno uomo per la sua sorte futura. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per noi qui presenti, perché celebrando la Pasqua del Signore, moriamo a peccato e risorgiamo la vita nuova. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci.